Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati ancora con la maglietta della nazionale tedesca perché, diciamo, torniamo a parlare, grazie al preziosissimo contributo di China Cat Sunflower della Panzer Division tedesca, di come pensa la Panzer Division tedesca sì, perché la Panzer Division, la divisione corazzata della Wehrmacht, pensa perché c'è bisogno, cioè la Panzer Division, la divisione, l'unità, diciamo così non è un semplice esecutore di ordine, funziona come un organismo che deve pensare mentre agisce e China Cat Sunflower, col suo preziosissimo contributo, ce lo spiega ripeto, c'è nei commenti, trovate questo contributo nei commenti a uno dei miei ultimi video ma ve lo ci faccio un video perché ritengo che sia estremamente interessante parlarne allora, la Panzer Division come pensa? allora, China Cat ci dice che una volta capito che una Panzer Division è un mezzo tattico per raggiungere un traguardo strategico e prima di vedere come è fatta resta da capire come pensa ovvero cosa hanno nella testa quelli che ne fanno parte dal comandante della divisione in giù per farlo occorre capire due termini fondamentali del linguaggio militare tedesco ovvero sia, il primo è Aufragstaktik mi si perdoni per il pessimo tedesco quella santa donna della Laura, della mia amatissima compagna mi picchierà perché lei è Bolzanina, il tedesco lo sa molto bene però la mia pronuncia è veramente pessima dicevo, la Aufragstaktik ovvero sia la tattica dell'incarico che funziona così il comando pianifica una missione e affida l'incarico di portarla a termine ad un subordinato lasciandogli tenete presente questo la totale libertà di esecuzione sul come portarlo a termine questa tattica se da un lato esalta le migliori qualità di un soldato intraprendenza, intelligenza, audacia dall'altro necessita di un elevato grado di addestramento i vantaggi sono numerosi il diretto superiore non interferisce si prendono decisioni in maniera autonoma e se si apre una finestra di opportunità ci si fionda senza aspettare ordini viene in mente qualche cosa a qualcuno a proposito dell'esercito italiano ma lasciamo stare allora questa tattica che risale a circa il 1813 è perfetta per una Panzer Division che deve operare con velocità sorpresa autonomia l'esatto opposto di questa tattica è la Befels Tactic ovvero sia la tattica dell'ordine e funziona così il comando pianifica una missione poi fornisce un ordine molto dettagliato al subordinato che lo deve eseguire in questo modo gli si dice cosa fare quando farlo e come farlo dalla A alla Z è evidente che così facendo le qualità migliori del soldato vanno perse ma c'è di peggio qualsiasi possibilità tattica si sviluppi sul terreno non viene sfruttata vi ricorda qualcosa? vabbè lasciamo perdere gli unici due eserciti che applicano la Aufrags Tactic sono quello tedesco e quello statunitense quest'ultimo poi ha fatto della Aufrags Tactic la sua base così facendo hanno imparato dai tedeschi come vincere le battaglie ma come perdere le guerre l'altra parola chiave è più complicata ed è Schwerpunkt come un sacco di parole tedesche vuol dire molto di più di quel che ne viene fuori da una semplice traduzione per i più fanatici alla fine ci sarà un link ad un testo che entra molto nel dettaglio semplificando al massimo lo Schwerpunkt è il punto di massimo sforzo su cui far gravitare l'attacco dal livello tattico fino a quello strategico e quindi logistico il che vuol dire che esistono Schwerpunkt all'interno dello stesso Schwerpunkt e prima di incasinarci ci si fa un esempio pratico usando come modello una battaglia notissima ovvero sia El Alamein allora qual è lo Schwerpunkt di Montgomery? il settore nord dove intende esercitare il massimo sforzo qui devono gravitare le risorse supplementari tutti i rifornimenti necessari per alimentare lo scontro e le unità che devono eventualmente sostituire quelle usurate all'interno del settore nord opera il trentesimo corpo di armata che a sua volta ha i suoi Schwerpunkt Kidney e Mithereia e se scendessimo livello divisionale troveremmo che ogni divisione ha il suo Schwerpunkt per quello che riguarda le Panzer Division il concetto di Schwerpunkt diventa assolutamente essenziale perché essendo dotata di alta mobilità e alta velocità può anche cambiare Schwerpunkt in fase operativa squilibrando la reazione nemica esatto squilibrare la reazione nemica reagire al punto giusto nel momento giusto per togliere equilibrio alla reazione nemica e per meglio capire usiamo le parole di uno dei grandi cervelli dell'esercito tedesco von Melletin ecco come usa la parola Schwerpunkt e lo dice in inglese allora dal libro Panzer Battles a pagina 46 half ha generally inferior in numbers of tanks our tactical leadership usually succeeded in concentrating superior number of tanks and guns at the decisive point In pratica, anche se inferiori in numero come carri armati, la leadership tattica aveva solitamente successo concentrando un superiore numero di carri armati e cannoni nel punto decisivo, lo Schwerpunkt. A questo punto, se combinate la Aufrags Tactic con l'applicazione del concetto di Schwerpunkt, vi renderete subito conto che il vantaggio principale di una Panzer Division stava nel cervello di chi la comandava. Rommel? Vi dice niente Rommel? Questa era la grandezza di Rommel. Rommel, ripeto, strategicamente era una scarpa, sinceramente, ma a livello tattico era indubbiamente un grande dello stesso livello di Annibale, di Scipione l'Africano o di Alessandro Magno. A livello tattico, perché era in grado, come pochi altri, di leggere la situazione al momento. E, ripeto, concentratevi su quello che dice chiaramente Chinacket. Il vantaggio principale di una Panzer Division stava nel cervello di chi la comandava. Ultima, ma importante, considerazione su Montgomery a El Alamein. La dottrina dello Schwerpunkt vorrebbe che quest'ultimo fosse nel punto più debole del nemico, mentre Montgomery va a sbattere nel settore più forte. Perché? Non perché Monti è tonto, come qualcuno dice in maniera molto superficiale. Ripeto, Montgomery era antipatico, spocchioso, presuntuoso, supponente e veramente poco gradevole come persona, siamo sinceri. Ma sapeva leggere come pochi il campo di battaglia a livello strategico. Contrariamente a Rommel, maestro assoluto della tattica. Dicevo, la scelta di Montgomery di sbattere nel settore più forte è perché il famoso campo di battaglia è lungo 65 chilometri e non ha a fianchi, a nord il mare, a sud la depressione, la micidiale depressione di Alcattara. L'impraticabile e insuperabile depressione di Alcattara. Quindi o passi da lì, o passi da lì, o passi da lì per forza. Eh, che vi posso dire, signori? China Cat, come sempre, ha una mirabile capacità di sintesi che ci spiega molte, molte, molte cose e che ci aiuta tantissimo a spiegare come dire, il modo di agire della Panzer Division. Come tutte le cose non c'è una verità assoluta ma quello che ci spiega China, che a proposito del pensiero cioè di come agisce la Panzer Division spiega grandemente bene il perché dei grandi successi in Francia, in Polonia, nel deserto e a Barbarossa delle forze corazzate tedesche. L'estrema autonomia dei comandanti sul campo la capacità dei comandanti sul campo addestrati, preparati, ben, come dire ben consci del compito che avevano di sfruttare immediatamente al momento di sfruttare al momento quello che succedeva in quel momento nel campo di battaglia. Allora, una delle cose che dico sempre è che nessun piano di battaglia per quanto accurato, per quanto preparato per quanto magnifico resiste, resiste al primo sparo al momento dello scoppio della battaglia stessa. Cioè, basti vedere il D-Day gli obiettivi del D-Day prevedevano che Caen avrebbe dovuto essere presa il giorno stesso dello sbarco fu presa dopo due mesi perché non tanto per incapacità degli inglesi ma perché si chiuse la finestra di bel tempo si scatenò un terrificante fortunale la marea salì troppo non fu possibile sbarcare i rinforzi e gli inglesi non riuscirono a prendere Caen il primo giorno. Se non ci fosse stata quella tempesta se la finestra di bel tempo si fosse allungata di un'altra mezza giornata Caen sarebbe caduta il 7 giugno al massimo. Ci vollero due mesi perché? Semplicemente perché ci fu la sfiga di una tempesta terribile che bloccò lo sbarco dei rinforzi e gli inglesi sulle spiagge dovettero attestarsi nel perimetro conquistato perimetro dal quale però risultò assolutamente impossibile sbatterli fuori. E questo perché, come semplicissima spiegazione del perché può succedere del perché un piano di battaglio un piano operativo per quanto perfetto alla prova dei fatti abbia sempre dei problemi perché può sempre succedere qualcosa può sempre capitare qualcosa può sempre venire fuori l'imprevisto così sia in positivo che in negativo la panzer diviso in tedesca in Polonia, Francia, Libia, Russia, eccetera, eccetera agiva con indipendenza c'erano degli ordini ma se durante l'avanzata si sviluppava una situazione tattica che permetteva di sfruttare una debolezza, una falla nello schienamento nemico che cosa si faceva? Si puntava lì questo è e questa una panzer divisione pensa una panzer divisione deve avere un cervello non deve essere un semplice e mero esecutore di ordini insomma, una certa differenza diciamo insomma, signori diciamoci la verità c'è una certa differenza mettiamola così tra un Guderian mettiamola così un Guderian un Rommel un Ohot che agiscono con indipendenza nei confronti dell'ordine dall'alto perché sul campo di battaglia signori se ci si apre un'autostrada davanti per avanzare e sconfiggere e annientare un corpo d'armata sovietico quello che è noi attacchiamo lì perché? perché abbiamo un'ampia autonomia decisionale una certa differenza rispetto al modo da agire delle forze armate italiane rigidamente gerarchizzate rigidamente come dire legate alla scala gerarchica facciamo un esempio in Albania Visconti Prasca che dice attaccate e i comandanti sul campo che devono attaccare anche se attaccare a novembre con un clima infame sui saliscendi dell'Epiro sulle forre sui monti dell'Epiro per attaccare le munitissime postazioni dell'esercito greco cioè signori quello vuol dire cioè ordini un par de ciufoli ci potevano essere ce ne fa anche un esempio ce ne fece un esempio anche però a proposito della prima guerra mondiale Paolo Cacciadominioni quando Paolo Cacciadominioni era in servizio come tenente degli alpini durante la prima guerra mondiale vide e raccontò in maniera molto amara che i generali mandavano all'attacco frontalmente delle postazioni austriache le loro truppe mandandoli al massacro Paolo Cacciadominioni aveva notato che a fianco delle postazioni austriache c'erano come dire dei passaggi delle possibilità di aggirare ai fianchi lo schienamento austriaco provò a farlo presente ai suoi superiori i suoi superiori risposero l'ordine è di attaccare frontalmente non possiamo attaccare di fianco non c'era autonomia la differenza tra la rigidità mentale di certi eserciti e la capacità di lasciare ampia autonomia ai comandanti subordinati per sfruttare i punti deboli dello schieramento avversario insomma non sempre funziona ma oggettivamente per un paio d'anni questo sistema ha garantito alla Germania nazista le grandi vittorie che tutti noi conosciamo indubbiamente poi inglesi americani e soprattutto russi hanno imparato bene la lezione si sono dati una svegliata e la Germania è stata travolta e annientata per carità di patria taccio taccio sulle forze armate italiane perché sappiamo fin troppo bene che la rigida catena gerarchica impediva una qualsiasi applicazione della dottrina tedesca non eravamo capaci la mentalità degli alti comandi la rigidità imposta di seguire la rigida scala gerarchica lo scarso addestramento delle truppe lo scarso addestramento degli ufficiali generali decoccio vedi visconti prasca vedi roatta vedi roboti vedi graziani insomma signori signori che vi posso dire è così mentre come dire gli altri cercavano di imparare la lezione tedesca e ci riuscirono anche bene vedi per esempio Wavel e O'Connor durante Compass noi altri che cosa facevamo servivamo ai signori ufficiali nelle loro tende con apposito pavimento di legno pasti caldi in piatti di ceramica serviti da attendenti in livrea col papillon mentre la truppa mangiava nelle gavette seduta per terra ma vabbè e i risultati si videro cioè la capacità tattica tedesca risulta difficilmente superabile quando poi ti trovi ad avere a che fare con un satanasso come Rommel che ripeto strategicamente valeva poco o niente ma a livello tattico era un assoluto genio riesci a fare quello che fai in Francia con la con la divisione fantasma con la settima panzer division che avanzava cioè in maniera assolutamente devastante per le campagne francesi quello che fece in libia Rommel è noto a tutti i suoi errori strategici ma il suo assoluto genio tattico perché Rommel era un grande tattico era un eccezionale tattico che era sempre ridosso della prima linea per sfruttare che cosa le occasioni le occasioni che gli forniva il campo di battaglia l'occasione che gli forniva la battaglia per colpire e stravolgere le tattiche dell'avversario questa è stata la grandezza di Rommel che sia sopravvalutato come soldato che sia come dire ripeto che non fosse quell'assoluto genio militare che tanti credono questo credo sia fuori discussione e ne abbiamo parlato più volte ma la sua capacità di sfruttare il momento di sfruttare le debolezze dello schieramento avversario mentre se le trovava davanti sono qualche cosa di assolutamente impareggiabile e come ci dice giustamente China Cat il grande vantaggio della Panzer Division tedesca fino al 1942 era essenzialmente nel cervello di chi la guidava e nel cervello dei suoi sottoposti tutto qua quindi cari signori ringrazio nuovamente China Cat Sunflower per il suo inestimabile contributo e come sempre cari signori arrivederci al mio prossimo video ciao ah dimenticavo e come sempre commentate 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 ari ciao